Ben ritrovati, oggi giochiamo in casa, in realtà ci occupiamo di teoria elettromagnetica e dell'opera di James Clerk Maxwell. Allora, volevo far precedere i testi di Maxwell da questa citazione invece di Ludwig Boltzmann, grande fisico, grande ammiratore di Maxwell, il quale usa addirittura una frase presa da un'opera di Goethe che si riferiva in effetti a dei simboli magici, riferendola ai simboli matematici delle equazioni di Maxwell e scrive è forse un dio che ha scritto questi simboli? Ecco invece vediamo cosa scrive Maxwell nel 1865 sulle Philosophical Transactions of della Royal Society di Londra. E qui un po' lui ci descrive in poche righe il suo percorso scientifico. Attraverso l'ipotesi iniziale del cosiddetto etere luminifero, un materiale che si assumeva, permettesse il passaggio, diciamo, della luce al suo interno, da cui il nome, materiale molto particolare, tant'è vero che poi si scopre che non esiste, è così particolare che non esiste, ma questo in effetti avverrà soltanto la prova definitiva col famoso esperimento di Marshallson e Morley, ma siamo già nel Novecento. Invece all'inizio si assumeva e questo rendeva in qualche modo queste onde simili a quelle acustiche, alla propagazione dei suoni e anche alle onde nell'acqua, per esempio. Allora vediamo, all'inizio di questo articolo abbiamo fatto l'ipotesi ottica di un mezzo elastico, lo vedete, attraverso il quale le vibrazioni, di nuovo, luminose, potevano propagarsi. Poi abbiamo esaminato i fenomeni elettromagnetici. Ricordo che fino a quel momento i fenomeni ottici, i fenomeni, diciamo, elettrici, i fenomeni magnetici venivano considerati un po' come tre discipline separate. Invece attraverso queste ricerche si capisce che, attraverso le ricerche di Faraday e di Maxwell, si capisce che in realtà si tratta di fenomeni elettromagnetici e poi con gli esperimenti di Hertz che seguono ancora il lavoro di Maxwell, anche le radiazioni luminose si capisce che appartengono alla stessa famiglia cui poi apparterranno, si aggiungeranno i raggi X, i raggi gamma, il tera, Hertz e così via. Poi abbiamo esaminato i fenomeni elettromagnetici cercando la loro spiegazione nelle proprietà del campo che circonda i corpi elettrici e magnetici. Quindi qui si passa dal concetto di etere luminifero a un concetto invece più astratto, il concetto di campo, campi elettrici e magnetici, che in qualche modo era dovuto a Faraday. In questo modo siamo arrivati a certe equazioni che esprimono le proprietà del campo elettromagnetico. Quindi ora Maxwell è a disposizione delle equazioni. Ora noi procediamo a investigare se queste proprietà che costituiscono il campo elettromagnetico dedotte esclusivamente dai fenomeni elettromagnetici sono sufficienti a spiegare la propagazione della luce attraverso la stessa sostanza. Quindi ora lui vuole fare il salto, andare a interpretare anche i fenomeni luminosi. Ecco, allora in particolare su questo, dall'opera più famosa di Maxwell, ancora adesso edita un trattato di elettricità e magnetismo che è del 1873, qualche anno dopo, si parla del fenomeno che forse non è così noto, diciamo comunemente, il fenomeno della cosiddetta pressione di radiazione. Cioè il fatto che se noi per esempio ci esponiamo al Sole, il Sole in qualche modo esercita su di noi una forza, e quindi una pressione sulla nostra superficie, sulla superficie del nostro corpo. Allora, vediamo, ci sono anche dei giocattoli, ho visto che in qualche modo mostrano attraverso degli equipaggi mobili, una sorta di equipaggi girevoli, messi al Sole, li fanno ruotare, quindi questo dovrebbe illustrare il fenomeno della pressione di radiazione. Ma comunque, vediamo cosa dice Maxwell. In un mezzo in cui si propagano onde, vi è una pressione in direzione normale ad esse. Un corpo piatto esposto alla luce del Sole sarebbe pertanto respinto da una forza che si applica sul lato su cui cade la luce. È probabile che si possa ottenere una quantità molto più grande di energia di radiazione per mezzo dei raggi concentrati della lampada elettrica. Tali raggi, cadendo su di un sottile disco metallico, delicatamente sospeso nel vuoto, potrebbero forse produrre un effetto meccanico osservabile. Qui è stupefacente come appunto Maxwell non soltanto preveda il fenomeno dal punto di vista teorico, ma anche suggerisca, praticamente prepari, una possibile esperienza che possa mettere in luce il fenomeno stesso. Del resto Maxwell non era un teorico puro, aveva anche una solida formazione sperimentale. Lui stesso aveva portato avanti varie esperienze, quindi dà questo suggerimento. Allora vediamo che cosa invece scrive nel 1901 Lebedev. Scrive, ho effettuato gli esperimenti nella semplice forma suggerita da Maxwell. Queste forze esercitate dalla luce sono in accordo, quindi lui riesce a rivelarle, sono in accordo nell'ambito degli errori sperimentali con le forze ponderomotrici della radiazione calcolate da Maxwell e Bartoli. Qui viene citato anche un italiano, Adolfo Bartoli, che era un fisico dell'Università di Pisa. Anche lui aveva in qualche modo ipotizzato il fenomeno della pressione di radiazione, ma con un approccio completamente diverso, diciamo termodinamico. E infatti questa proprietà della pressione di radiazione spesso viene attribuita sia a Maxwell che a Bartoli insieme. Adesso invece vorrei leggervi qualcosa di pointing. Quelli di voi che hanno studiato l'elettromagnetismo conoscono l'omonimo teorema, che è molto importante perché dà in qualche modo conto del bilancio di potenza, del bilancio di energia legato al campo elettromagnetico. Quindi come in qualche modo la potenza, per esempio, emessa da certi esorgenti, si ripartisce in varie forme, per così dire. E infatti anche lui scrive sempre sulle Philosophical Transactions e il titolo dell'articolo è sul trasferimento di energia del campo elettromagnetico. E allora sentiamo cosa dice. Io penso sia necessario aver ben chiaro che accettando la teoria di Maxwell, secondo cui l'energia risiede nel mezzo, non si può più considerare una corrente come qualcosa che trasporta energia lungo il conduttore. Anche secondo, diciamo, l'opinione comune, si pensa, non so, a dei fili elettrici che trasportano una corrente come se fossero dei tubi dell'acqua. Quindi la corrente scorre all'interno del filo come l'acqua scorre all'interno del tubo. In realtà, se il metallo di cui sono costituiti i fili ha delle buone proprietà conduttrici, in genere così le ha ottime, all'interno del metallo il campo elettromagnetico è nullo, noi diciamo è identicamente nullo, quindi di fatto non c'è nessuna forma di energia all'interno dei conduttori. Eventualmente c'è una corrente, ma solo sulla superficie esterna dei conduttori. Quindi in realtà il trasferimento dell'energia non avviene all'interno dei conduttori, ma avviene all'interno del mezzo circostante. E quindi in un certo senso il conduttore fa da guida appunto, cioè traccia il percorso che deve seguire la radiazione elettromagnetica. e si muove dunque lungo questa traccia, ma non è al suo interno che avviene il flusso di energia. E dice Pointing, una corrente in un conduttore è piuttosto da riguardare come risultante essenzialmente da una convergenza, ecco è come se in qualche modo catalizzasse l'energia, la guidasse appunto, una convergenza di energia elettrica e magnetica dal mezzo sul conduttore, ove essa si trasforma in altre forme. Perché se poi, anche qui i nostri studenti lo sanno bene, se poi questo conduttore non è perfetto, quindi non ha una conducibilità virtualmente infinita, ma finita, come avviene ovviamente nei materiali reali, ci sarà il cosiddetto effetto Joule, cioè un trasferimento di cui possiamo anche noi fare esperienza, un riscaldamento dei fili elettrici, e nei casi più drammatici addirittura la loro fusione, quando al passaggio di una corrente elettrica, quindi un trasferimento di energia da una forma a un'altra, dalla forma elettromagnetica alla forma termica, per così dire. Vi ringrazio. Ah, ho riportato poi qui il testo originale in inglese della citazione di Maxwell. Vi ringrazio e vi auguro buona lettura, buono studio. Grazie. Grazie a tutti.